Contrati, 20-25 minuti, purtroppo questo momento di sabato forse avrebbe bisogno di riposare un po' anche se oggi ha fatto gol perché sta giocando solo, il resto poi ci hanno pensato ai ragazzi, hanno fatto una grande partita sia a Mello che di piazza, ma tutti gli altri, i ragazzini, i giovani hanno fatto molto bene, mi dispiace perché abbiamo preso un gol con la difesa schierata anche se hanno fatto una grande giocata, però è un gol evitabile, probabilmente anche loro o qualcuno qualche gol potrà essere evitato, però noi abbiamo giocato dopo a grandi ritmi, non abbiamo mollato un pallone quindi veniamo da un'ottima prestazione a Benevento, oggi ne abbiamo fatto un'altra, speriamo di essere sulla buona strada.